Buonasera a tutti, perdonatemi se leggo, o in parte leggo, ma non sono questi i miei palcoscenici. Questo pomeriggio, appunto, come Matteo ci ha detto, sono stato insieme a lui e lo ringrazio per l'invito un po' in aspettato di stasera. Siamo andati a trovare Paola. Paola non è una malata qualsiasi, nel senso che, da un punto di vista tecnico, potrebbe essere definita come una paziente altamente complessa, complessa dai suoi bisogni da un punto di vista clinico, ma complessa anche e soprattutto da un punto di vista della sua gestione quotidiana. Paola, oramai, da quando era bambina, è affetta da questa malattia che si chiama distrofia muscolare dei cingoli, che lentamente, però progressivamente, in qualche modo l'ha, anno dopo anno, limitata nei movimenti. Poi a un certo punto, dodici anni fa, come Matteo ci diceva, contro la sua volontà, il medico dice di sì, il medico dice di no, indipendentemente da questo, però per una crisi respiratoria è stata ricoverata al pronto soccorso, è stata intubata, è stata tracheostomizzata e adesso, da dodici anni quindi, vive ferma, immobile, nel suo letto che lei chiama Culla, ferma con i suoi atti respiratori che vengono ormai puntualmente controllati da un ventilatore e da una macchina. Tengo a precisare e voglio leggere quello che oggi Paola in parte ha detto, perché riesce Paola con la sua grossa forza di volontà e riuscita negli anni a sincronizzarsi con il ventilatore e a parlare, quello che ha detto e in parte ha scritto in una lettera a Matteo, vi cito quello che dice, che lei non è né triste, non è depressa, non è angosciata, per il suo corpo, non ha voglia di morire, ma il suo corpo oggi è immobile, ma la sua mente va. E da questa precisazione quindi che stasera vi voglio raccontare che uno dei suoi principali desideri, una delle sue battaglie più difficili, una delle sue esperienze che sta portando avanti, di donna che prima era molto bella e oggi, come ha detto anche a Matteo, oggi a 75 anni si sente e si dice autoironicamente splendida, sta cercando di portare avanti e nonostante i suoi 12 anni di mobilità, certo questa battaglia in parte è l'approvazione del testamento biologico, perché oggi questa è una legge di civiltà, è una legge che qualsiasi malato affetto da una malattia degenerativa, indipendentemente dalla sua scelta di fine vita, vuole che venga approvata. E chiede per sé, ma soprattutto oggi Paola lotta e combatte affinché la sua vita in casa, insieme alla sua famiglia, al suo marito, a tutti quelli che gli vogliono bene, che la circondano, sia la più dignitosa possibile. E quando parliamo di un malato in queste condizioni dobbiamo pensare che sicuramente è bene investire negli ospedali, nelle eccellenze, nella ricerca. Matteo forse si ricorda della secchiata d'acqua che si è tirata addosso per la ricerca, in questo caso contro la SLA. Però dopo che passa l'evento acuto, che il paziente trascorre e supera magari brillantemente in ospedale uno o dieci giorni, tutti gli altri, 355, li passa a casa. Ed è lì che il paziente deve essere assistito e deve essere assistito in maniera che possa vivere una vita dignitosa, correttamente. E oggi, paradossalmente, abbiamo tutte le armi affinché questo possa avvenire. Abbiamo, e questo che possa avvenire è che vengono evitati i ricoveri che sono inappropriati, che portano disagio a chi in ospedale ci deve andare, ovviamente il malato, a chi deve organizzare tutto, pensiamo ai familiari che devono trasportare un paziente allettato in ospedale, evitano costi che potrebbero essere evitati. Voi pensate, abbiamo le leggi, oggi ci sono i livelli essenziali di assistenza che basterebbe fossero applicati che la canula tracheostomica che i pazienti hanno non potrebbe essere cambiata a domicilio, ma deve essere cambiata a domicilio. Nella realtà in cui lavoro ad Arezzo e grazie alla lungimiranza dei dirigenti dell'ASL, fra poco la cosa verrà estesa a tutta l'ASL sud-est della Toscana, questo avviene. in dieci anni, pensate, quindi che non sono delle pratiche che possono creare problemi al paziente, in dieci anni non abbiamo avuto mai nessuna complicanza acuta, però purtroppo questo nelle ASL italiane non è una best practice che viene seguita o che viene seguita solo sporadicamente. Sono poche le ASL che la seguono e dove avviene talvolta c'è soltanto qualche medico che va a domicilio ed è supportato dalle associazioni. E questa cosa di poter andare a casa del paziente è una cosa che non deve valere soltanto per la, e chiarezza non vale solo per la canula tracheostomica, ma vale anche per la PEG, che è il tubicino con cui il paziente si nutre, ma deve valere anche per esempio per le cure palliative, perché non tutti i pazienti scelgono, vogliono o capitano di avere una canula tracheostomica, però devono ugualmente poter vivere a domicilio una vita dignitosa. Pensate che grazie a questa assistenza ottimale a domicilio, Paola è dieci anni che è a casa ed è dieci anni che non si ricovera in ospedale, non vede da dieci anni un ospedale. Un'altra cosa, oggi abbiamo anche non soltanto le leggi che ci supportano, ma abbiamo la tecnologia. Oggi possiamo fare a casa di un paziente, se questo è stabile, qualsiasi cosa, possiamo fare i prelevi venosi, i prelevi arteriosi, possiamo, come vi ho già detto, cambiare le canule, possiamo andarci a vedere dentro con i broncoscopi, possiamo fare le ecografie. Oggi la tecnologia l'abbiamo, la dobbiamo solo sfruttare, ci dobbiamo investire. E poi vi dico l'ultimo dei, e anche qui cito la lettera di Paola, uno dei problemi che ha creato il dolore della malattia che mi abita è quello dei caregiver, delle badanti. Trovare persone che assistano e che mi assistano oggi è un'impresa titanica. Vengono qui, per prima cosa chiedono dello stipendio e seppur allettante nella cifra, dopo avermi ben sbirciata, constatata la situazione, girano i tacchi, se ne vanno. Tubi, fili, macchine, spaventano. E poi sanno bene che in questo paese di anziani troveranno facile un altro albergo. Bisogna che oggi le regioni, le aziende, le ASL, gli enti assistenziali organizzino dei corsi che siano pratici. Oggi in Toscana già è stato fatto qualche cosa organizzando dei corsi per la formazione delle badanti, ma devono essere meno teorici possibili, devono essere fatti a letto del malato. E voi pensate, Paola, ma come tanti altri malati come lei, si offrirebbero come, passatemi il termine, come cavie. Farebbero di tutto pur di avere questo. Sono disposti a cedere parte della loro pensione, del loro assegno che ricevono pur di avere un'assistenza garantita e ottimale 24 ore su 24. Insomma, è termino. Paolo oggi non ha chiesto solo che prima possibile si approvi una legge che va incontro alla degnità umana, ma ha soprattutto chiesto che vengano sfruttati gli strumenti che oggi già ci sono, ma che per milioni di motivi non vengono applicati e che permetterebbero di arrivare al fine vita in maniera più serena e rendendo così più umana la malattia. Vi lascio con una frase di Don Paolo Bargigia, che è un paziente, un amico, un professore, un maestro di vita per me e per Matteo, che è morto da pochi mesi colpito da SLA, che vi fa capire come a questi malati occorre ascoltarli, che diceva l'immobilità allarga lo sguardo. Con questo vi ringrazio e vi saluto.